Buone notizie per via Bonfadini. Assolutamente sì. Sembra impossibile che nella Milano di Sala si debba ricorrere a una trasmissione come Milano Trash per ottenere dei risultati. Bonfadini, dopo una settimana dall'andata in onda della tua trasmissione e della nostra denuncia, è stata ripulita. Al momento è completamente ripulita. Abbiamo risolto il problema della discarica abusiva, che era un problema annoso che si trascinava da anni. Finalmente abbiamo recuperato di nuovo alla polizia e all'igiene questa zona. Veniva sversato di ogni, quindi sia materiali che anche liquidi, non sappiamo di che tipo, e naturalmente finivano nel terreno. Gli interventi, va detto, sono arrivati comunque un po' tardivi. Ricordiamo che qui c'erano addirittura degli automezzi rubati. C'erano automezzi rubati. Quella purtroppo pare essere l'attività principale riconducibile al vicino Campo Rom e ogni tanto ancora ci sono veicoli. Però se non altro, proprio la parte legata alla discarica abusiva è stata debellata. Rimangono gli autoveicoli che vengono rubati, cannibalizzati, poi incendiati e le carcasse, purtroppo, qualcuno ogni tanto ne capita ancora. Come evitare che in futuro si ripeta la faccenda? Ma guarda sicuramente guardando le telecamere. Le telecamere ci sono o posizionando delle fototrappole, quindi temporanee, oppure guardando semplicemente le telecamere e sanzionando chi discarica. I mezzi ci sono. È questa amministrazione che è un po' allergica alle telecamere, purtroppo.